Nuovamente la politica per quanto riguarda gli approfondimenti di Ora di Punta. Parleremo di cinema, di musica. Hi everybody e benvenuti in un'altra puntata di Rick and Roll. Andiamo a parlare di libri perché diamo subito il benvenuto al nostro ospite. Come si intrecciano, diciamo, le vicende romane con quelle della politica nazionale? Grazie a tutti.